il Milan segna il 3 a 0 al minuto 44 del primo tempo vorrei sapere quasi alla moviola che cosa pensa lei nel momento in cui al 45esimo si alza dalla panchina per entrare per andare verso lo spogliatoio che cosa pensi in cui ricordo bene te lo dico perché io stavo scrivendo 2 a 0 che devo dire a metà tempo parlando in inglese perché dieci anni fa il mio inglese adesso non è fantastico dieci anni fa era anche peggio doveva parlare 2 a 0 che devo dire e in questo momento subiamo il 3 a 0 anche più difficile stavo pensando un po' il discorso perché doveva essere un discorso tattico aveva deciso giocare con la difesa a 3 e doveva essere anche un discorso emotivo sono entrato parlato tutti i giocatori con la testa bassa io ho parlato di testa alta abbiamo lavorato tantissimo per arrivare qua e niente da perdere adesso proviamo a fare un gol e rientrare nella partita è stato il cambio tattico più questa mentalità che ha il calciatore del liverpool e dopo i tifosi quando eravamo fuori tifosi erano sempre a fianco alla squadra e questo lo abbiamo notato con il primo gol ma se nota sempre liverpool se lotta fino alla fine